scusa chi sto parlando eh tu non lo sai ma io sono lo zio di totò peppino hai capito io sono il padre di mario draghi e non me ne frega un cazzo te lo sai che è totò peppino e lo sai che mario draghi 27 sì ma totò peppino lo sai chi è e tu lo sai chi è mio figlio ok ma totò peppino il paul frega lo sai chi è lo sai chi è totò peppino ti sei il clown ridere dicendo paolo piano ma ecco ecco chi sei il clown ridere i porco il clown ridere è di buono clown ridere di merda per mille mille si fa con la brass for me per forza si è l'almeno di questi bianchi mi serve un alberino io te l'ho dato il quarzo ce n'è puoi toglierti gentilmente l'armatura la mia è indistruttibile se vuoi non è che non subisco cioè si non subisco danno però viene assorbito in energia mi stai massacrando smettila no basta vuoi vedere Paolo quanto ci vuole va bene vai eccomi dove sono i miei stivaletti ce li ho io li ho rubati non lo so ecco lo sapevo ma perché mi devi prendere gli stivaletti dio porco li ho trovati per terra siccome le fk li stavo tenendo io per terra ma che per terra li ho trovati per terra ma stai mentendo glielo lasciate caricare eh appunto poi abbiamo dovuto spostare la batteria quindi sono finiti per terra no adesso mi devi dare 50 euro Manu per favore aiutami aspetta è un casino bastiale guarda che roba voglio i soldi i soldi perché avete spostato la batteria perché dovete fare cose perché erano scariche ma il problema è che io l'ho rotta col piccone cosa? si adesso tiene meno energia non so perché ma tiene meno energia cosa? sta mentendo perché perché ci va meno energia? quattro milioni no sta mentendo lo sai ma ce n'era di più prima ce n'era di più prima un po' di più ma giusto un poco ma stai parlando della Edstrome al Gisello o dell'MF? la batteria ma perché devo sempre morire ma ma la vita ti metti aggiunti ah ah eh col te lo stessi molto no aiutami ma perché devi farlo ti sciogli in tutto! ma come ti sciogli in tutto? cittato musica 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 Ecco dove difendeva gli alberi. Guarda l'albero di Cene. Ecco dove difendeva gli alberi. Da qui. Guarda la mappa. E' un quadrato. E' un quadrato.